Nella giornata delle oasi è aperta la riserva marina di Miramare e a Venzone incontro tra i parchi alpini. Oggi è la giornata delle oasi del WWF, una manifestazione aperta al pubblico e che punta alla tutela della natura e alla protezione di parchi e aree di particolare interesse ambientale. Tra queste la riserva marina di Miramare, protagonista stamane anche della trasmissione RAI Ambiente Italia. Ce ne parla Francesca Vigori. Molte aree naturali straordinarie, di cui la gemma della riserva marina di Miramare, alcune criticità dei progetti visti con preoccupazione da chi ha a cuore la tutela dell'ambiente. Nella giornata delle oasi WWF, il Friuli Venezia Giulia si presenta sotto il profilo naturalistico e per il fondatore di WWF Italia Fulco Pratesi, ospite della diretta da Trieste della rubrica del Tg3 Ambiente Italia, fa la sua figura. È una sensibilità maggiore. Ci saranno poi dei centri scientifici che danno un grosso aiuto. C'è una buonissima sezione del WWF. Il responsabile mare di WWF Italia, Marco Costantini, spiega come il Golfo di Trieste, che si estende da Muggia alle foci del tagliamento, si presenti come una sorta di laboratorio sperimentale della gestione delle coste. Abbiamo la gestione delle navi, abbiamo una gestione turistica particolare, abbiamo un sistema di aree protette costiere, abbiamo questo sviluppo che porta verso l'utilizzo dei rigassificatori con proposte diverse. Non c'è un'opposizione da parte del WWF ma ci sono proposte, proposte che vogliono essere integrate proprio con Slovenia e Croazia. Qui abbiamo veramente l'opportunità di promuovere un meccanismo, un sistema da applicare poi da altre parti mediterranee. Ma è possibile far coesistere la tutela del patrimonio naturale con le esigenze turistiche ed economiche del territorio? Per pretesi è indispensabile. Io penso che siano assolutamente legate, non si può concepire turismo senza la tutela della materia prima, che è appunto l'ambiente. Se noi pensiamo di fare un turismo distruggendo l'ambiente andiamo molto poco lontano. Se le masse che vengono si accontentano dell'ombralone della sedia sdraia va bene, ma insomma noi credo che oggi il turismo deve chiedere qualcosa di più anche dal punto di vista culturale, oltre che naturalistica.